E' la 36esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari, quella che si aprirà a Gubbio il prossimo 28 ottobre per prolungarsi fino a mercoledì 1 novembre, ma sarà probabilmente anche l'ultima nel format attuale. Lo hanno affermato all'unisono comune comunità montana Alta Umbria nel presentare stamani a Palazzo Pretorio a Gubbio l'appuntamento nato tra mille difficoltà. La prima di queste è la location con la soprintendenza dell'Umbria che ha negato il nulla osta per l'installazione degli stands in Piazza Grande, ponendo il vincolo estetico. Il secondo problema, quello annoso del budget economico. Il terzo, la difficoltà a trovare espositori in tempi in cui il commercio non eccelle. Da qui l'appello alla regione, sia del sindaco Filippo Stirati come del dirigente della comunità montana Alta Umbria, Emilio Bellucci, perché si faccia mediatrice tra tutti i comuni Umbri e dell'area penninica marchigiana, accomunati dal tema tartufo, per creare un evento unitario capace di competere con territori come le Langhe. Intanto abbiamo la nostra area interna, quindi per esempio con un comune di Montone, di Pietralunga, si possono aprire nuovi scenari, ma anche naturalmente con città di Castello. E io credo, pure con i comuni marchigiani a noi vicini, molto legati peraltro ai nostri interessi, così come noi siamo legati ai loro. Quindi io penso che anche con la realtà dell'area interna marchigiana e del territorio marchigiano si possano costruire dei progetti comuni che mettano il tartufo come grande elemento di promozione, di veicolo, di sollecitazione, unitamente io credo ai sistemi museali, ai beni culturali, agli eventi espositive, alle iniziative culturali che possono riguardare il teatro, la musica. Cioè credo che questo elemento gastronomico di grande eccellenza possa essere coniugato anche con dei fatti culturali che lo possano ulteriormente impreziosire. In attesa di riscontri la Mostra Eugubina si appresta ad alzare il sipario sabato 28 ottobre con uno stand di 600 metri quadrati ospitato in piazza 40 Martiri, dove saranno collocati 27 espositori tra tartufo e prodotti agroalimentari. Degustazioni a Santo Spirito, alla taverna di Sant'Antonio e al complesso di San Pietro, tutti i giorni dalle ore 17 secondo un calendario consultabile sul sito www.tartufodigubbio.it con abbinamento di tartufo pecorino, tartufo champagne, tartufo coppa, tartufo birra e tartufo vino in collaborazione a questi ultimi con l'Associazione dei Sommelier. Arte con una mostra di pittori ungheresi a Santo Spirito, un'altra di tovaglie ricamate a Palazzo della Porta, concerto lirico domenica 29 alle 17.45 a Santa Maria al Corso, presentazione del libro Ti racconto una tavola, domenica alle 17.30 a San Marziale. Torna al Teatro Romano la mattina della domenica la gara nazionale di cani da tartufo, così come non mancherà il premio all'espositore che presenterà il tartufo più grande, premio intitolato da quest'anno alla memoria di Ubaldo Bacinelli, a gubbio noto come Sossi, infaticabile animatore e promotore della mostra del tartufo. Sulle previsioni di presenze turistiche fanno ben sperare i 15.000 euro, di cui 10.000 del Gall, spesi per la pubblicità e promozione dell'evento, ma soprattutto pesa positivamente il trend attuale che vede gubbio riprendersi dal disastroso fine anno 2016, con una graduale risalita verso i valori del 2015. Le presenze dei primi nove mesi dell'anno parlano di un meno 5 rispetto a quell'anno, che, se non è un più, è però indice che qualcosa è cambiato, visto che a gennaio di quest'anno si arrancava su un meno a doppia cifra. Fa bene al cuore anche vedere che a gubbio quelli che arrivano più convintamente sono gli stranieri. Eravamo troppo sbilanciati sul mercato italiano, per cui quando è entrato in crisi, come anno scorso, il mercato italiano abbiamo subito pesantemente. Allora è meglio avere una clientela diversificata. Perché? Perché la clientela estera, a secondo dei mercati e dei bacini geografici da cui proviene, ha delle stagionalità diverse, ha delle capacità di spesa diversa, compra in maniere diversificate servizi non turistici, ma collegati alla presenza turistica, per cui è meglio andare ad esplorare tutto questo universo che per adesso non avevamo attirato più di tanto.